Il Foiano festeggia la conquista della semifinale di Coppa Italia Eccellenza e batte la collegiana dopo la lotteria dei calci di rigore 0-0 al termine dei primi 90 minuti e dei successivi 30 dei supplementari dove non sono mancate l'occasione per andare in porta. Per fortuna che la nebbia non ha inciso più di tanto perché nella seconda parte c'è stato il rischio concreto di rinvio se questa si fosse infittita sul prato dello stadio di Pini. Alla fine i rigori decisivi, i penalty sbagliati dai giocatori della formazione Il Sara mentre dagli 11 metri i ragazzi di Pippo Zacchei si sono dimostrati più freddi e precisi. Il sigillo chiave l'ha messo al segno Cristian Rufini che ha realizzato il rigore che ha messo in cassaforte la qualificazione. Alla fine grande festa in casa a Maranto.